Gli scienziati dell'Università della California stanno lavorando su questo test rivoluzionario non invasivo che in soli 10 minuti sarà in grado di rilevare il cancro attraverso una sola goccia di saliva. David Wong, professore di oncologia presso l'Università, rivela che è possibile rilevare il DNA del tumore quando quest'ultima è in circolazione nei fluidi corporei. Il metodo è noto come biopsia liquida. Il ricercatore sostiene altresì che una sola goccia di saliva contiene dati sufficienti per rilevare frammenti del DNA tumorale e fornire una diagnosi definitiva del cancro. Se ci sono segnali della presenza di un tumore nel sangue o nella saliva di una persona questo test lo svelerà ed in futuro si potrà essere in grado di rilevare più tipi di cancro nello stesso tempo. Il test innovativo è quasi accurato al 100%, non è invasivo ed è così semplice che potrebbe essere fatto direttamente a casa o all'interno dell'ufficio del proprio medico di fiducia mentre il paziente è in attesa. Inoltre i ricercatori promettono che il prezzo sul mercato sarà più che abbordabile, probabilmente di circa 20 dollari. Tuttavia, cosa molto importante, il test deve ancora passare attraverso studi clinici e dovrà essere approvato dalla FDA, la Food and Drug Administration degli Stati Uniti e pertanto sarà probabilmente disponibile non prima del 2020.